Il momento intollerabile Ho vissuto per 56 anni tra le stagioni che errano sulle montagne, fino a quando nella mia mente sono riemerse vecchie cose importanti ed è scoccato il momento intollerabile in cui dovevo ad ogni costo tornare tra la gente. Allora con gli occhi tormentati, che guardano da grandi orbite ineguali, sono sceso in città e a 85 anni ho chiesto ai passanti di trovarmi una donna che venga a vivere con me. Commento Molti eremiti si ritirano dal mondo per evitare gli altri. Questo comportamento fugge in gran parte all'evoluzione perché l'uomo deve condividersi con gli altri. Il vero saggio affronta tutti spontaneamente. Ma è pronto a condizionare il suo sentire per amore agli altri e non a espandere il proprio io. Così è possibile essere eremiti pur restando in mezzo alla gente. Basta isolare la propria mente dalle influenze materiali. Così l'eremita non crea attrito con la legge. Molte oreовere il suo sentire. Ciao per la realtà. Grazie a tutti